Ben ritrovati amici del Centro Medio Italiano. Il campo di alta pressione e in espansione verso il Mediterraneo centrale porta a condizioni di tempo stabili ovunque. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 28 settembre. Soleggiato al mattino da nord a sud, con qualche innovo addensamento solo su Calabria e Sicilia. Dubbi sparsi sui vettori ionici della Calabria e della Sicilia anche al pomeriggio, con addensamenti più consistenti sulla Calabria dove non si escludono isolate piogge. Abile e soleggiato altrove. In serata e nottata ancora tempo asciutto su tutta la penisola, con cieli sereni o al più poco nuvolosi per velature in transito. Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni al giornale sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Grazie a tutti.